Entra in campo il direttore di gara Doveri e si preparano a farlo, lo stanno facendo anche le squadre protagoniste questa sera alla Recchi. Stefano Pioli va a salutare colui che è stato una bandiera del Milan e oggi allena la Salernitana. Reinders, Giroud, Milan che prova ad allungare la Salernitana, Leao, Leao, il tiro deviato fuori, fuori c'era anche Teo Libero. Eh c'è il braccio, si inserisce molto bene Shauna, la mette in mezzo, Candreva, Candreva, il Milan si salva poi il tiro, ancora la parata di Mignan. Reinders, bella palla, colpo di testa, Rafa, gol, ha segnato Fittomori, ancora, ancora Fittomori. Aveva preso il palo Newcastle, ha segnato col Frosinone, ha segnato col Cagliari, Ficcaio, Tomori, Oluva Ficcaio Mi, Oluva da Milo là, Tomori. Tanti tocchi loro, tanti tocchi loro, bellissima azione Salernitana, noi non siamo riusciti mai a prenderla, Castano, svicinissimo al pareggio. Palla messa in mezzo, il colpo di testa, il gol, il gol di Fazio. Loftus, 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 Loftus! La parata di Costil, incredibile, pazzesca occasione da rete per noi. Si è fatto male, Tomori, non ci credo. Loro non si fermano. Ancora la Salernitana e Miracolo di Mignano. Hanno rischiato di subire il terzo gol. Leao contro Candreva, Leao la mette in mezzo, colpo di testa, la parata! Incredibile, la palla non entra due volte. Non entra due volte, Jovic, due grandi occasioni. L'allargo per Calabria, Calabria va al cross, colpo di testa di Giroud. Gol! Ha segnato il Milan! Luka Jovic! Luka Jovic! Mamma mia, quanto ho sofferto, ragazzi, ho sofferto l'anima, ho sofferto. Quanto ho sofferto, ragazzi. Palla messa in mezzo, colpo di testa, la parata di Costil. La parata di Costil sul colpo di testa che poteva essere il 3-2. Palla lunga di Mignano. E finisce, ma doveva recuperare. Serata brutta, che poteva essere bruttissima e solo brutta. 2-2, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, tanti cari auguri.